Gisler, i suoi numeri ci ha fatto capire molte cose. La prima cosa, non vogliono andare a votare perché il centrodestra avanti di dieci punti. Questo mi sembra l'unico collante che ci sia in questa cozzaglia di trasformisti. Questo è l'unico credo, l'unico Dio che tiene insieme questa cozzaglia di trasformisti. Perché oggi, che noi cambiamo anche il linguaggio, che dovrebbe essere una consuetudine, una convenzione del linguaggio, e io sento dire costruttori. Prima erano delle merdacce quelli che cambiavano, adesso sono i costruttori salvatore delle patate. Senza cibi di parole. Mi sembra che cambiare lingua... Poi l'altra cosa... Possiamo finire San Panchè e poi arrivo da Fiano. Avete visto anche nell'intervento del direttore dell'Espresso che chi ottiene la maggioranza, a seconda della visione, può invece essere una minoranza. Questo per dire che noi stiamo vivendo una fase pericolosissima. Perché o sei del pensiero unico, o la pensi così, o ti può succedere qualsiasi cosa. E poi l'ultima cosa, e mi taccio, ma a voi vi pare serio il partito di Conte, mica il partito di Conte? A parte che non glielo fa fare il partito democratico, il partito a Conte, perché se no è come se mettessero il cappio alla gola, che è una cosa assurda. E l'altra cosa, tutta questa discussione all'interno di questa maggioranza che oggi è minoranza, contro Renzi, a favore di Renzi. Ma vi ricordate che Zingaretti aveva detto mai con i 5 Stelle se questo governo è nato, è nato per Renzi, oggi viene meno una componente e questi vogliono stare attaccati alla poltrona. Devo sentire cosa voleva dire Fiano, molto rapido.